Vediamo come creare video animati e presentazioni con un'applicazione web gratuita che è Powtoon, quindi powtoon.com. In alto a destra clicchiamo su login, per il sign up, quindi la registrazione, vi rimando al video sulla registrazione e la presentazione, anche se è di qualche mese fa, comunque è ancora valido. Clicchiamo su login, possiamo collegare il nostro account con alcuni servizi, quindi entrare direttamente con le credenziali di questi social, oppure inserire username, oppure indirizzo email con cui ci siamo registrati e password. E poi clicchiamo sul pulsante login e ci ritroviamo sulla nostra dashboard, sulla nostra scrivania, in cui troviamo il pulsante create per creare un nuovo video animato, una nuova presentazione. Quindi clicchiamo sul pulsante azzurro create ed entriamo. Scegliamo la presentazione già pronta dalla quale vogliamo partire, per modificarla e creare la nostra, personalizzarla. Se decidiamo di partire da una di queste presentazioni già pronte, che troviamo anche nella seconda scheda, clicchiamo sull'anteprima e poi sul pulsante edit che ci riporterà alla scheda con lo strumento di creazione vero e proprio. Altrimenti clicchiamo su blank, vuota, bianca e clicchiamo anche in questo caso su edit e aspettiamo il caricamento dell'ambiente di creazione. Per alcuni versi è molto simile a un ambiente di creazione, quindi un software per la creazione di presentazioni, dei più famosi. Anche quindi al centro vediamo una pagina, in questo caso bianca, perché dobbiamo ancora cominciare. Sulla sinistra vedete la miniatura delle diverse slide, delle diverse pagine o diapositive che sono già state inserite di default all'interno della nostra presentazione. Una cosa interessante invece è la parte di destra, che è quella delle gallerie, dove ci sono riuniti tutti gli oggetti e anche molti degli effetti che possiamo inserire all'interno della nostra diapositiva, della nostra presentazione o video animato. Ma la cosa ancora più interessante è la barra che sta sotto alla diapositiva, che è la barra del tempo, che è quella che ci permette attraverso una serie di settaggi di assegnare i tempi e quindi anche l'ordine di uscita ed entrata dei nostri elementi e quindi di animare la nostra presentazione. Sulla sinistra poi in basso abbiamo i pulsanti play, stop, avvia eccetera e alcuni altri pulsanti che andremo a utilizzare con i vari oggetti che inseriamo nella nostra slide. Come vi dicevo abbiamo la possibilità con lo stesso strumento, con le stesse slide anche, di creare video animati oppure presentazioni. Questa differenza la possiamo vedere e la possiamo settare sulla sinistra, sopra la miniatura delle nostre slide, con questo interruttore, che per ora è su movie. Se lo spostiamo e lo mandiamo dalla parte opposta, vedrete che comparirà la scritta slide show, che ci permette invece di fare una slide. La differenza è che il video viene visto tutto in una volta, quindi dall'inizio alla fine, se invece lo settiamo su slide show avremo dei punti in cui il video, la slide, la presentazione si ferma, noi possiamo parlare e poi farla continuare, farla procedere. Per ora lavoriamo in modalità video movie, quindi. Allora guardiamo i pulsanti in alto, molto semplici, nuovo, salva, taglia, copia e incolla, come più semplici, griglia, possiamo visualizzare la griglia sulla nostra slide bianca, questo ci permette di allineare meglio gli oggetti, edge, togliamo per un attimo la griglia così vediamo meglio l'effetto, ombreggia, da un effetto di ombreggiatura ai contorni, sound permette di inserire il suono, lo guardiamo subito, cliccando su sound apriremo il sound manager che ci permette di inserire un voice over, quindi la nostra voce, un commento alla slide o al video che andremo a presentare, oppure una traccia musicale, una colonna sonora al nostro video o presentazione. Guardiamo come fare, sia per il voice over che per la traccia musicale possiamo importare un file, quindi un mp3 che abbiamo già all'interno del nostro computer, quindi clicchiamo su import file e andrà ad aprire le risorse del nostro computer, dove potremo selezionare un file mp3 come vi dicevo e cliccare su apri, così lo andrà ad aggiungere al voice over, quando avrà finito di caricare potremo sentirlo anche in anteprima, quindi cliccando play e potremo andare anche a modificare il volume per bilanciarlo poi eventualmente con la traccia musicale che andremo ad aggiungere, se vogliamo ottenere questo lo possiamo fare, altrimenti lo gestioniamo e scegliamo un altro file, cliccando su yes. Un'altra possibilità è quella di registrare direttamente il nostro commento audio, quindi cliccando sul pulsante di registrazione con il pallino rosso possiamo cominciare a registrare. Come vi dicevo poi abbiamo la possibilità di inserire una traccia musicale, quindi anche in questo caso possiamo importare il file come abbiamo visto per il voice over oppure inserire uno dei file che ci viene già messo a disposizione. Quelli che possiamo inserire sono quelli evidenziati colorati di verde e se le vogliamo ascoltare in anteprima clicchiamo su play, quando abbiamo deciso quale inserire clicchiamo su add e verrà caricato nella colonna sonora, nel music track, nella traccia musicale del nostro video. Anche in questo caso lo possiamo riascoltare e modificare il volume per bilanciarlo come dicevamo prima col voice over. Col play all possiamo ascoltare le due tracce insieme per vedere se si sentono bene entrambe. Poi clicchiamo su apply per applicare queste modifiche al nostro video. Ricordatevi sempre di cliccare sul pulsante save per salvare tutte le modifiche. Il pulsante successivo è image che ci permette di inserire le immagini. In questo caso ci permette di inserire immagini cosiddette piatte perché poi vedremo che invece dalla galleria, quindi la parte destra, possiamo inserire delle immagini invece che hanno una cornice e quindi sono inserite all'interno di un elemento grafico. Allora clicchiamo su image come abbiamo detto per inserire un'immagine piatta. Possiamo sceglierlo dalla libreria, dalla galleria di immagini che abbiamo già caricato, se ne abbiamo già caricate, altrimenti clicchiamo su upload per caricare un'immagine da pc. La andiamo sempre a scegliere come abbiamo fatto prima e clicchiamo su apri per caricarla nella galleria. Aspettiamo che venga caricata del tutto, la possiamo vedere in anteprima, possiamo settarla come sfondo della slide oppure inserirla come immagine normalmente cliccando sul pulsante azzurro inserisci immagine. e verrà visualizzata all'interno della nostra slide, vedete, come oggetto che possiamo modificare come dimensioni, possiamo trascinare oppure possiamo ruotare. Lo vediamo subito. Andiamo soltanto nell'angolo e la ruotiamo come preferiamo. Oltre alle immagini possiamo aggiungere testo, anche in questo caso piatto, perché nella galleria poi vedremo che possiamo inserire invece testo con degli effetti in movimento, quindi animato. Clicchiamo sul pulsante con la T di aggiungi testo e lo vediamo comparire sulla nostra slide. Anche in questo caso lo possiamo spostare e ridimensionare. Non lo vedete benissimo, però si sta accorciando. Eccolo. Facendo doppio clic dentro possiamo poi inserire il testo che vogliamo. Quindi selezioniamo il testo da eliminare, in questo caso quello di default, e scriviamo ad esempio prova. E questo testo può essere ulteriormente modificato, sempre evidenziandolo, con le funzioni pulsanti che abbiamo sempre in alto, di fianco ad aggiungi testo, quindi in dimensioni. Per quanto riguarda il font ce ne sono diversi, grassetto corsivo o sottolineato, per i font che lo supportano possiamo decidere poi l'allineamento e il colore. Se clicchiamo sulla pennetta con il foglio, possiamo accedere al manager che ci farà modificare il nostro testo direttamente. E poi clicchiamo su applica le modifiche. Come vedete abbiamo già, solo con la prima barra in alto, la possibilità di creare una vera e propria slide con immagini testi ed eventualmente sfondi e sonoro, anche come abbiamo visto prima. Per completare le funzioni della barra superiore andiamo a vedere anche il pulsante share, che ci permette di condividere le cose, le slide, i video che abbiamo creato con Powtoon. In questo caso vi ricordo che siamo in modalità movie. Quindi possiamo condividere il nostro video direttamente sulla player page, quindi sulla nostra pagina personale e renderlo pubblico a chi andrà ad accedere attraverso Powtoon. Possiamo decidere anche però di caricarlo su alcuni servizi come ad esempio YouTube. Nella versione free non possiamo scaricarlo come mp4 che invece è una delle funzioni per la versione premium. Quando abbiamo deciso clicchiamo su next per procedere poi con la pubblicazione. E infatti vedete che abbiamo a disposizione alcune opzioni, in realtà per la free possiamo decidere solo di selezionare quella standard e poi continuiamo sempre con il pulsante next con la nostra pubblicazione. Selezionando la categoria, inserendo il titolo, la descrizione e alcuni tag se li vogliamo per il nostro video. Usciamo un attimo, poi quando abbiamo finito clicchiamo sul pulsante publish. Usciamo un attimo per cambiare la modalità e settarla su slideshow come abbiamo visto prima dalla maniglia in alto a sinistra. Clicchiamo ancora una volta su share per vedere la differenza. Ovviamente non possiamo caricarlo su YouTube perché altrimenti non sarebbe uno slideshow, ma possiamo inserire come abbiamo fatto prima, categoria, titolo, descrizione e tag e poi pubblicarla direttamente nella nostra pagina di visualizzazione di Powtoon. E poi da lì condividerlo ad esempio attraverso i link che avremo a disposizione. Vediamo ora brevemente come possiamo agire sulle diverse slide che abbiamo all'interno della nostra presentazione o video animato. Vedete come dicevamo prima sulla sinistra che abbiamo la miniatura delle slide, di default ce ne sono già tre. Prendendole, quindi cliccandoci sopra, tenendo cliccato possiamo spostare le diverse slide e quindi cambiare l'ordine. Cliccando sulla slide che vogliamo eliminare possiamo cliccare sul pulsante meno e andiamo ad eliminarla. Se ne vogliamo aggiungere un'altra clicchiamo sul più e andiamo ad aggiungerla. Ogni slide poi se ci passiamo sopra con il mouse vedete che ha a disposizione anche una maniglia. Possiamo cliccare sopra alla maniglia e vedere che ci permette di selezionare diversi layout da applicare alla slide. Questo ci può tornare utile perché abbiamo già un'impostazione di massima sulla quale possiamo andare ad agire per modificare in modo semplice la nostra slide. Ci sono alcuni layout molto belli da utilizzare e molto semplici anche da modificare. Per ora tra una slide e l'altra vedete che non ci sono effetti di transizione, infatti c'è scritto no transition e questo ci riporta alla galleria sulla destra dove avremo tra l'altro anche gli effetti di transizione. In alto vediamo una serie di stili che possiamo applicare alla nostra slide, alla diapositiva del nostro video. Alcuni sono solo per la versione premium, altri invece sono liberi e sono molto interessanti, li possiamo utilizzare. Cosa vediamo, cosa troviamo all'interno di questi stili? Ad esempio fermiamoci su questo che è paper cut. Allora, in alto vedete subito in tutti gli stili che abbiamo gli effetti di testo. Ne parlavamo prima, con il pulsante in alto possiamo aggiungere testo piatto, invece in questo caso possiamo aggiungere testo con effetti. Se clicchiamo su more nella galleria accediamo sempre a tutti gli effetti o a tutti gli oggetti che fanno parte di quella categoria. Vediamo un esempio, cliccando su uno dei pulsantini rispetto al testo, lo vediamo inserirsi all'interno della slide, facendo doppio clic come abbiamo visto prima per il testo piatto di cui ha preso anche le impostazioni. Possiamo scrivere come prima prova e vedere che effetto ha il testo. Clicchiamo su play, visto che in questo caso è un'animazione, e vedete che compare la mano e il testo prova. Come dicevamo, nella galleria potete trovare per tutti gli stili anche le cornici per le immagini che funzionano sempre come l'immagine piatta, quindi cliccando potrete scegliere quale immagine inserire all'interno della cornice. Troverete alcuni personaggi oppure alcuni oggetti da inserire all'interno della slide, alcuni saranno piatti, come questo, cliccando sopra li potrete inserire nella slide. Poi li potrete, come abbiamo visto prima per il testo e l'immagine, spostarli e ridimensionarli. Avrete a disposizione anche molto spesso, non in tutti gli stili, ma molto spesso li trovate, anche oggetti animati, che vengono chiamati animation, come questo ad esempio. Vedete che è lo stesso personaggio, però se quello di prima era piatto, questo invece si muove ed è animato. Nella galleria poi potete trovare oltre agli oggetti anche le transizioni, quindi gli effetti di transizione, quindi cliccate, selezionate la slide a cui volete applicare la transizione e cliccate l'effetto di transizione che volete applicare, ad esempio il rullo, e vedete che dopo la slide, andando sulla sinistra sotto le miniature, non compare più una transition, ma il nome della transizione, che apparirà finita la slide prima che compaia la slide successiva. Oltre a questo, sempre all'interno della galleria trovate gli sfondi, che come abbiamo visto prima, possono essere una delle immagini che andiamo a caricare, oppure uno degli sfondi che sono collegati ai diversi stili. Cliccando sopra si inseriscono all'interno della slide che avete selezionato. E finiamo guardando la parte più interessante, che è quella che ci permette di trasformare le presentazioni in video animati, che è la timeline, la parte sotto, quindi la linea del tempo delle nostre slide. Per ogni slide di default è settata sui 10 secondi, ma noi possiamo con il più e con il meno aumentare i secondi oppure diminuirli. Quando abbiamo inserito i diversi oggetti, ad esempio andiamo a vedere su prova, quindi sul testo, vedete che adesso è comparsa la barra blu del nostro oggetto testo, lo vediamo anche sotto dove ci sono tutte le miniature di tutti gli oggetti che abbiamo a disposizione, che abbiamo inserito nella slide. In questo caso è inserito dal secondo 0 fino al secondo 10. se prendiamo le due maniglie dell'inizio e della fine possiamo trascinarle e decidere da che punto far partire il nostro oggetto, quindi inserirlo all'interno della slide, e a che punto della slide e a quale secondo farlo scomparire. Lo stesso per quanto riguarda gli altri oggetti, che come vedete hanno momenti diversi, hanno durate diverse anche rispetto al testo e possiamo sempre modificarle. Un'altra cosa interessante è che possiamo modificare anche gli effetti di entrate e di uscita, ad esempio vedete che nell'oggetto animato abbiamo un'entrata da sinistra e un'uscita sempre da destra verso sinistra. Se clicchiamo sull'effetto di entrata avremo un menu dal quale possiamo decidere quale effetto applicare e possiamo decidere anche se far comparire la classica manina di Powtoon in alcuni di questi effetti oppure no. Ad esempio nell'effetto di entrata dal basso vedete che in questo caso la manina è barrata, noi invece vogliamo che compaia la manina tipica di Powtoon e quindi lo settiamo in questo modo. Andiamo a vederlo, portiamo l'indicatore all'inizio della slide così la vediamo dall'inizio e clicchiamo su Play. Vedete che compaiono di volta in volta gli oggetti, ecco l'effetto d'entrata e poi avremo anche l'effetto d'uscita. Abbiamo visto anche la transizione che porta alla slide successiva e vedete quindi che abbiamo selezionato e dato un'impostazione anche in termini di tempo a tutti gli oggetti che volevamo andare ad inserire nella nostra presentazione. Ovviamente questa è la parte clou più importante dello strumento perché ci permette di trasformare le presentazioni statiche in presentazioni dinamiche in video animati, presentazioni animate e quindi è il punto importante dello strumento. Vediamo l'ultima particolarità, se abbiamo la versione Movie Video non succede niente, quindi vedete che non compare niente e il video verrà visualizzato dall'inizio alla fine senza interruzioni. Se clicchiamo invece su Slide Show avremo la possibilità attraverso questo cuneo di impostare un punto di stop in cui la presentazione si fermerà, noi potremo parlare e poi riavviarla. Quindi inseriamo l'indicatore, lo trasciniamo dove vogliamo che la nostra presentazione si fermi e inseriamo un cuneo cliccando sul pulsante Hold in basso che ci permetterà di avere un punto di stop. Ad esempio andiamo sul secondo 6 e clicchiamo su Play, la presentazione parte e al secondo 8 dove abbiamo messo il cuneo si ferma e noi poi cliccando di nuovo Play possiamo farla ripartire. Bene.